MSC Crocello, lo stile italiano delle vacanze Jean-Pierre, il mio Sambiter Sambiter, zero alcol, molto spirito E lo scontrino? Ciao, tu ci stai parlando? Non stavo parlando Ascoltavo il messaggio di una ragazza L'avrò riascoltato più di cento volte E chi sarebbe? Tu Attivate la segreteria telefonica Team per un mese offre a tutti l'ascolto gratuito dei messaggi Il secondo delle guerre Un'opportunità unica per imparare dagli errori del passato e prevedere il futuro Offerta lancio, fascicolo video e CD-ROM a solo 9.900 lire Ogni foto che non fai è un buco bianco nei tuoi ricordi Fotografa con Kodak Ultra e carta Kodak Ricordati di ricordare Serve un frisk? Frisk Sveglia la mente I tuoi desideri hanno creato Margherita 2000 di Ariston La prima lavatrice che ti dà un pulito perfetto alle basse temperature Perché grazie alla sua tecnologia ha la classe A di lavaggio già a 40 gradi La 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 Ci sono delle volte in cui hai voglia di guidare e altre no Nuova Fiat Punto è l'unica con Speed Gear Il cambio sequenziale a 7 marce come in Formula 1 Se vuoi divertirti E' automatico se vuoi rilassarti Vieni a provare nuova Fiat Punto con Speed Gear Presso concessionari e succorsali Fiat Fiat Punto con Speed Gear Nuovo Motorola Time Port Per avere accesso a informazioni vitali su internet Ovunque ti trovi Nuovo Motorola Time Port Pocket Internet I film più originali e più emozionanti di quest'anno Potrebbero non essere nei cinema Saranno sulla tua scrivania Ti presentiamo il modo più facile per realizzare, montare, smontare e personalizzare i film girati da te E' il nuovo iMac Con Desktop Movies Ma lo sai che hanno fotografato Ramona Badescu mentre... ... ... ... Grazie a tutti.